Benvenuti a una delle mie nuove puntate di Timelapse, avremo un formato diverso, magari ci saranno qualche video. Questa è una commissione nuova per questa ragazza che si chiama Domitilla, che è la mosa di Santo, il mio amico rapper, di cui è in uscita l'album Amen, adesso andatelo a vedere Santo, Amen su Spotify, e adesso incomincerò, probabilmente farò un collage e attaccherò questi giornali, molto belli, della finanza, finalmente abbiamo trovato un avuto, sopra con un po' di colla per fare lo sfondo, per dare un po' di materia, dopodiché inizieremo a dipingere. Enjoy the ride and... dai, adesso comincia a lavorare va! Ciao a tutti, questa non potrebbe essere la fine della prima parte, sono convinto che alcuni di voi diranno che vi piaceva più prima. Ora, al momento abbiamo finito, aspettiamo che si asciughi e diamo una manina di nero, bella lì. Ciao ragazzi, sempre il giorno 1, direi che siamo andati piuttosto avanti, come potete aver visto magari da time lapse, e... Ah, l'intervallometro, scusate. Allora, dicevo, oggi abbiamo avuto una parte molto di azione, ho coperto tutto per il nero e ho fatto una prima base di aerografo, quindi questa è stata una parte molto, chiamiamola, action. Adesso, sinceramente, sempre il giorno 1, che sono le 2 di pomeriggio, passiamo già a una fase più regolessiva, cercherò di colpire i volumi e fare qualche disastro per migliorarlo. Bene, ci vediamo nel time lapse. Ciao! Buongiorno a tutti, secondo giorno qui nel Linkia Studio, a American Studio. Oggi è il secondo giorno, dovrei andare un po' avanti con la pittura, dico un po' avanti perché oggi avrei dovuto lavorare. Ho inventato un po' di tempo giusto per fare qualche ritocco qua e là, non farò cambiamenti significativi, stay tuned. Allora, ciao a tutti, questa era la fine della prima parte del video. Spero che vi sia piaciuto. Ah, c'ho un gatto koala, ve lo volevo far vedere. De cavolo, vai! Niente, se vi è piaciuto, cliccate a destra o a sinistra del gatto che ci saranno le altre playlist. Intanto vi ringrazio per la visione e ci sentiamo presto. Ciao! 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 Grazie a tutti.